1, 2, 3, 4, Gabriele, Bocciofila, Campo Sportivo. Ciao, sono Gabriele. Dopo i festeggiamenti dei 30 anni della Bocciofila e dei 100 anni dalla nascita di Alterro Giampiretti, vi aspettiamo domenica 1 settembre 2024 alle 17.30 presso lo stadio comunale di Loiano, dove ci sarà la partita di veterani rosso-blu e delle vecchie glorie di Loiano. Dalle ore 19.30 la cucina sarà aperta con le nostre magnifiche cuoche. Potrete gustare fagioli cannellini con salsiccia e capocollo alla griglia. dolce per 15 euro, obbligatoria la prenotazione allo 051 40 79 560. Alle ore 21, insieme ai veterani del Bologna e a qualche iscritto della Bocciofila, un torneo amatoriale di biliardo e con ricchi premi. Mi raccomando, c'è anche l'intrattenimento con DJ, non mancate! Grazie per la visione!